Civil Week 2024, siamo a Castina De Pecchi in compagnia di Valentina di Cooperativa Insieme. Cosa state realizzando oggi per la Civil Week? Allora, oggi dieci cooperative che si riuniscono in questo coordinamento che si chiama Coordinamento Macramè hanno deciso di mettere in piedi questa festa per dare evidenza di tutte le attività che ogni cooperativa porta avanti. Siamo cooperative che si occupano di persone con disabilità in particolare ma ci sono anche servizi per minori e insomma in altri ambiti e questa è la prima festa in cui tutte insieme diamo evidenza un po' di tutte le attività, abbiamo portato anche i prodotti realizzati nei nostri servizi e insomma un momento di condivisione. Tu operi per il sociale, quindi ci sorge spontanea una domanda, chi te lo fa fare? Sicuramente l'idea di avere un obiettivo comune da portare avanti con una squadra di colleghi, di questo sicuramente e non è facile soprattutto in questo momento rispetto al momento che sta vivendo il sociale però ci sono dei momenti che mettono continuamente benzina per continuare a portare avanti gli obiettivi che ci siamo dati. In bocca al lupo e buona Civil Week! Grazie mille, grazie!